Una bellissima carpa di 7 kg Il rilascimento della carpa Un saluto Ciao ciao Raccoglimento, ferry in eseguimento Giustamente c'è anche una piccola amica da rilasciare ovviamente Ovviamente il motivo del carp fishing è anche questo Prendere la preda e rilasciarla di nuovo al suo habitat naturale Ciao carpetta Ovviamente il carpetto pomo che ti dico apricci Ciao ciao Aspetta che fosse l'ultimo momento che sta partendo qualche canna Fino all'ultimo non si sa mai Niente da fare Ciao a tutti Ciao belli Numero uno Alla prossima Ciao ciao ragazzi Ciao a tutti al gruppo